Musica Ladri pescatori, sima di banconote, in azione nella notte al distributore di benzina di via Tarlati a pochi passi di distanza dall'acquedotto vasariano. I malviventi, due ed incappucciati, hanno messo a segno il colpo nella notte tra mercoledì e giovedì. In tutta tranquillità, torna alle tre e hanno forzato il distributore del self-service per poi dare avvio alla pesca. Hanno spaccato la bocchetta dell'accettatore dove si mette i soldi e da lì con delle aste, immagino delle pinze lunghe, hanno prelevato il contante che era dentro la sacchetta dell'accettatore. Visto dalle telecamere ci hanno impiegato una trentacinquina di minuti a finire l'operazione e poi andarsene, avendo svuotato tutto l'accettatore a meno che qualche banconota svolazzante che non sono riuscita a prendere, che gli si è incastrata di qua e di là e non sono riusciti a beccarla con le pinze o con questa cosa che non ho idea come fosse, che non si vede bene. Io mi immagino delle pinze lunghe che hanno prelevato, hanno prelevato e così è andata. Poi la mattina quando siamo arrivati ci siamo accorti che un cliente ha messo i soldi e dice ma qui se no non si vedeva niente perché l'operazione era giustata e pulita. I banditi sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Questa gente che vive dei spedienti, non facendo niente tutta la giornata, pensano come fare a fare questi furti, questi micro furti che per carità non è che sono a mano a madre, però comunque danneggiano l'equilibrio della gente, non fanno stare tranquillo nessuno. Come può essere qui, può essere in una casa, poi quello che poi sconvolge è la tranquillità con cui operano. È una tranquillità imbarazzante, la calma, avete visto anche voi quando siete visti dei movimenti che avete visto? Non è che con la paura, con la tranquillità assoluta. Ancora da quantificare il bottino sulla vicenda sta indagando la polizia.